La chiusura della statale 81 Piceno a Prutina dovuta ad una frana sta creando non pochi disagi in quanto di fatto interrompe il collegamento tra la magliella orientale ed il Sangroventino. Hanno intanto scritto all'ANAS per trovare una soluzione urgente i sindaci Danilo Dorazio di Civitella Mesterremondo e di Farassan Martino Antonio Tavani. La situazione è quella che vedete alle mie spalle, è un cedimento importante per carità, acqua a 100 metri da dove stiamo parlando, di alcune forse di 10, 15, 20 metri che di fatto però interrompono qualsiasi tipo di comunicazione dal capoluogo e da guardia grele verso la magliella orientale, verso il Sangroventino e soprattutto, mi duole dirlo, verso il polo industriale agroalimentare di Farassan Martino. Il traffico da e per Farassan Martino e per questa zona che ho appena raccontato è un traffico che riguarda mezzi pesanti e mezzi leggeri per alcune migliaia di mezzi al giorno ed è inverosimile che qualcuno possa pensare di tenere questa strada senza valutare situazioni alternative. Io credo che sia necessario e con tutti i sindaci del comprensorio ci stiamo regolando di conseguenza attivare immediatamente un tavolo perché vengano studiate tutte le soluzioni migliori, tecniche per ripristinare anche a passo duomo, anche solo per i mezzi leggeri, un passaggio. Le vie alternative non ci sono. Il collega di guardia grele ha appena comunicato questa mattina che intende chiudere la via Caprafico, che era una prima ipotesi di deviazione che allungava di circa 6,5 km il tratto, in un percorso comunale peraltro disastrato, una vera e propria strada di campagna. Rimane l'alternativa dei colli di Acigno tra la provinciale guardia grele Acigno-Casoli, ma anche lì la situazione non è delle migliori. Quindi qua si rischia di andare a girare in Val di Sangro andando a intasare ancora di più la 652. Io credo che una soluzione possa e debba essere trovata. Lo facciamo in maniera costruttiva, non verremo a incatenarci davanti a questa frana, ma credo che questo smottamento e questa soluzione vada affrontata nel momento, nei tempi e più veloci possibili.